Buonasera e benvenuti alla sostituzione di programma, cioè come annunciato giorni fa al posto di ladro di bambini il cui restauro è indietro per motivi tecnici insieme all'autore e noi abbiamo deciso di proiettare questa bella coppia di Colpire al Cuore, anche perché si legava con Colpiti al Cuore, cioè con il documentario come il cinema italiano ha trattato il terrorismo in questi anni. Non vorrei rubare spazio all'autore, dico solo due cose, che lui le sa per cui non si arrabbierà con me, che io considero il più bel film, il capolore di Gianni Ameglio secondo me è così ridevano, girato qua a Torino, però io ho particolare affetto, uno dei suoi film che mi piace davvero molto molto è proprio Colpire al Cuore, che secondo me intanto perché ci rappresenta quegli anni e anche quell'ambiguità, poi Gianni vi parlerà di quell'ambiguità, anche delle ambigue interpretazioni di Colpire al Cuore o delle dispari interpretazioni di Colpire al Cuore, ma soprattutto perché le presenta attraverso una storia privata che è una storia che ha dei grandissimi momenti di affettività e anche almeno uno, ma in realtà più di uno, dei grandissimi momenti musicali, questo film, Gianni Ameglio. Allora, intanto buonasera, voglio fare una domanda davanti a tutti. No, basta che non sia un quiz. Hai Emanuele, è un quiz, cioè, ciao Anna Maria, dato che tu hai detto due titoli, così ridevano al primo posto, al secondo Colpire al Cuore, fammi la top five per favore. La top five? Five mia! La top five mia, terzo posto. È un po' un casino. Vai, è un po' un troiaio, vai. Allora, terzo posto, io non so se scegliere tra... No, devi scegliere. No, io sono in ballo tra l'America e il ladro di bambini. No, devi dirlo però, perché se no che gioco è? Che gioco è? Che gioco è? Ma c'è anche porte aperte. E che gioco è? No, vediamo, vediamo, vediamo. Sono già cinque, eh? Sono già cinque, allora mettili in fila. Mettili in fila. No, le piace di meno. Le chiavi, no? No, no, mi piace. Ma non tra i primi, non nella top five. Ma non tra i primi cinque, onestamente. Non te la top five. Allora, vediamo, perché io ci vorrei mettere anche la tenerezza, onestamente. Allora, diciamo, abbiamo detto, così ridevano. Facciamo una top five di dieci? Sì, praticamente. Allora, così ridevano, colpire al cuore. L'America. L'America? La tenerezza e il lato di bambini. Va bene. Poi so che sono controcorrente, perché in realtà il lato di bambini è un film magnifico. Per cui sono controcorrente. Diciamo che chiunque direbbe il lato di bambini. Più dell'America. Più di tutti. No, no, no. Vabbè, no, no. Scusate, no. Più di tutti, no. Capisco che è un film, direi, perfetto. Non è perfetto. È riuscito. Perfettamente riuscito. Io ho fatto quella distinzione che tu sai tra film importanti e film riusciti. Allora, il film riuscito è un film che piace. E che arriva anche, che ne so, in Alaska, il successo del ladro in Australia si ricorda ancora, perché è stato un trionfo economico pazzesco e anche critico e via discorrendo. Il film importante è un film, magari difficile, magari che arriva di meno, però che smuove qualcosa che ha una sua forza anche di stile, di linguaggio, di cose che dice e a quel punto io sono d'accordo che dal punto di vista di importanza, così ridevano e non lo batte nessuno perché non ha fatto una dracma, non ha fatto una peseta, non l'ha capito nessuno. Mi hanno insultato anche mentre prendevo il leone d'oro, perché nessuno capiva che cosa fosse successo tra un capitolo e l'altro. Quindi per me quello è un film importante. Poi riuscito è il ladro dei bambini. Secondo Alberto Crespi c'è un film solo mio, contemporaneamente riuscito e importante, che non abbiamo citato, pensa un po', il primo uomo. Ah beh c'è il primo uomo, sì. Secondo lui il primo uomo è contemporaneamente, è tutte e due, però vabbè, non basta con le facezie. No, lo abbiamo nominato io prima, pote aperte, lo stavo per mettere la cinquina. Piccolissimo aneddoto, poi così lasciamo la parola al film, era il 92 ed era uscito il ladro dei bambini ed era il nuovo Sacher di Nanni Moretti e c'era già da tanti mesi, diciamo, era uscito a febbraio ed eravamo in agosto. Io ero sull'autobus e un signore, allora ero più giovane, il signore aveva l'età che ho adesso, mi riconosce e mi dice ma dove posso vedere, rivedere quel grande film? Io ho detto ma insomma basta scendere alla prossima perché eravamo su Viale Trastevere e c'è il film al nuovo Sacher di Nanni Moretti, lui fa no, al nuovo Sacher c'è quella stronzata del ladro dei bambini, io dicevo a porte aperte, ma proprio così. Quindi per dire come siamo, ecco io a porte aperte per esempio non lo metto nella top five, però metto nella top five un film che diciamo tutti mettono sotto zero in genere, io metto l'intrepido, l'intrepido perché è un film importante, non riuscito, importante e diciamo che fra 50 anni quando io non ci sarò sarà riscoperto e ci saranno le tesi sul lato di bambini sull'intrepido, ci sarà forse una strada intitolata all'intrepido, quindi insomma. Che sarà il giornalino però. Che sarà, sì, sì, sarà il giornalino o no? Sarà l'intrepido. Allora, un'altra malignità, il monello sarà il film o sarà il giornalino? Sarà il film, sarà il film, sarà il film, sarà il film, sarà il film. Non se lo ricorda più nessuno il monello dice. Allora, io non ricordo quasi niente di colpire al cuore, quindi sono l'ultima persona che vi può dire qualcosa e l'ho ripetuto nel documentario che è passato ieri, colpiti al cuore, che io l'ho fatto con una paura, con un patema d'animo, con un'angoscia, con un'ansia che non ho mai più avuto nella vita. ero disperato, ero disperato, non sapevo perché, poi ho scoperto che la paura veniva dall'argomento e dall'aria che mi circondava. Io non sapevo se stessi percorrendo la strada, non dico quella giusta che non esiste, ma la strada coerente, narrativa, diciamo di pedinamento dei personaggi in un certo modo, perché dicevo non capisco quello che mi sta succedendo attorno. Quindi immaginiamo se sono capace di giudicare, se non capisco. E allora ho fatto il film e dopo ho cominciato a decifrarlo, piano piano. Diciamo che oggi, forse, così vedevano, si capisce meglio. E soprattutto, colpito al cuore, scusa, è il lapsus, la lingua che batte, no? Allora c'erano i partigiani del papà e i partigiani del figliolo. Ha ragione lui o ha ragione l'altro? Io dicevo non ha ragione nessuno dei due, hanno ragione al limite tutti e due, perché io come regista ho parteggiato per l'uno e per l'altro, come devo. Adesso forse si può anche vederlo senza questa storia di coppie Bartali. Sono passati trent'anni, più o meno, una trentina d'anni. E forse, diciamo, è un ritratto del tempo. E forse a trent'anni di distanza riusciamo a capire cosa succedeva. In noi, che non eravamo terroristi, perché questo è il senso del film. Non è il fenomeno terroristico che io guardo, come Marco Tullio Giordana negli Angeli Ribelli, no? Cioè io guardo il problema che invade le persone che terroristi non sono. E quindi do molto spazio ai sentimenti familiari, al rapporto padre-figlio, che poi è diventato una costante, mia. E quindi il terrorismo... Ecco, Olivier Sayas scrisse una cosa straordinaria sui cagliere. Disse, il terrorismo interessa a Gianni Amedeo quanto la resistenza interessava Bresson nel condannato a morte e fuggito. Cioè nel senso che non è che era un pretesto, ma era la causa scatenante di un conflitto padre-figlio. Così come ovviamente su tutt'altri piani. A proposito, vi dico una cosa che mi riempie di orgoglio e di gioia. Forse nemmeno te l'ho detta. Il 10 dicembre incontro pubblicamente in un cinema e parleremo, io e la signora Bresson, la vedova di Bresson, parleremo del cinema di Bresson. Mi piacerebbe che fosse qua a Torino, però è a Roma. Roma è la casa del cinema a Roma. Perché il 10 dicembre... Il 10 dicembre... E se l'ha finito. Sì, è finito il festival. Io vi ringrazio di essere qua, vi lascio alla visione del film. Grazie. Grazie e buon divertimento.